Musica Uno arriva sotto Cosa fa? Chiede C'è un ignorante come me No no, intanto stiamo valutando C'è un ignorante come me Sì, però, Presidente Spero, intanto speriamo che Non sia solo un giorno Perché la disponibilità c'è Cosa succede? La gente arriva All'entrata del nostro Quello che si interebbe per venire è Ci sarà il cartello, porte aperte Dove ci sono i volontari del Turing Che raggruppano le persone e le accompagnano Si è fatto il protocollo con i caratteri Sì, quindi ci piegano Sì, 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 addirittura Poi immagino che faranno dei percorsi ad hoc C'è la possibilità di estrarle Tutti, muoviamoci Con le griglie fisse e politiche Che sono stati smontati e rimontati per l'occasione Mi va all'occhio, sì Continuiamo anche a prestare opere a moste internazionali Perché la Galleria Sabauda È una continua richiesta di caponatori L'altro giorno a Belvedere Il settore di Belvedere a Vienda Quindi la vita del museo continua in tutto per tutto Perché manteniamo aperta la manica nuova Con tutto quello che è la vita del museo Nello stesso tempo siamo qua E continuiamo anche il monitoraggio Dello Stato Conservativo Con questo paranco che permette di tirare su il museo In marmo che non hanno bisogno di climatizzazione Ma che nello stesso tempo sono delicatissime Le abbiamo lasciate imballate Proprio per i motivi di tutela delle opere E poi di praticità quindi del trasporto E poi di praticità quindi del trasporto